Ciao, mi chiamano Paolo Torregrossa e sono il fondatore del progetto Fare Utili. Condividiamo con gli imprenditori un metodo che ha già permesso a centinaia di aziende di incrementare i propri utili fino al 300%. E' proprio perché il nostro compito è quello di aiutare alle imprese a incrementare i propri utili che abbiamo scelto il Tueppi come partner tecnologico della nostra azienda e che stiamo iniziando a sponsorizzare anche i nostri clienti.